Ciao a tutti, siamo al clan Fuoco Montegrappa del gruppo Scouts del Bassano 1. Durante quest'anno abbiamo affrontato il tema della disabilità parlando con esperti o persone direttamente interessate perché portatori di una disabilità o a stretto contatto. Per come azione finale di questo capitolo abbiamo deciso di montare un breve video in cui recitiamo la promessa nel linguaggio dei segni, nella speranza che il nostro messaggio possa arrivare a più persone possibili. Noterete che le parole che emineremo con l'abiale saranno leggermente diverse da quelle della promessa, questo perché la grammatica della lingua dei segni è leggermente diversa da quella della lingua italiana. Buona visione! Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio, per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in una circostanza, per osservare la legge Scout. Con Dio aiuto prometto onore di fare del mio meglio, per fare il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri sempre, per seguire la legge Scout. Grazie a tutti! Grazie a tutti!